Inchieste dopo inchieste, sprechi, dipendenti assenti dal posto di lavoro nonostante risultassero in servizio, farmaci scaduti e venduti per buoni agli ospedali, e ora la storia dei medici di base di Larino che secondo la procura hanno simulato un servizio per ricevere una somma in debita dall'ASREM. La sanità del basso Molise ne esce con le ossa rotte. L'ultimo episodio, scoperto dai carabinieri del NAS, guidati dal comandante Antonio Forciniti, racconta di medici di base che si erano aperti uno studio associato all'interno della RSA a quanto risulta senza alcuna autorizzazione dell'ASREM. Per il servizio di assistenza continua che avrebbero dovuto offrire ai propri pazienti, prendevano 600 euro lordi in più in busta paga. Un premio contemplato dall'ASREM, visto che con questa formula alleggerivano il carico di utenza che si riversa sul servizio pubblico, dunque su pronto soccorso e guardia medica. Ma il servizio per gli inquirenti era fittizio. Sono scattati gli avvisi di garanzia per truffo e falso per nove persone tra medici e dirigenti dell'ASREM. Sono state sequestrate diverse auto di proprietà dei dottori e la procura aveva anche chiesto l'interdizione dai pubblici uffici, ma il GIP non ha accolto la richiesta. Intanto le indagini dei carabinieri continuano tra accertamenti patrimoniali e controlli sui conti bancari dei professionisti, a cui intanto lo stipendio di marzo è stato bloccato. Il danno arrecato alle casse dell'ASREM e dunque ai soldi dei cittadini è stato stimato in 100.000 euro. Sotto inchieste è finito in qualità di medico di base anche il sindaco di Larino, Guglielmo Giardino, a cui sono state sequestrate una fulvia del 72 e una Porsche d'epoca. Si difende sostenendo che il servizio l'ha garantito dal suo studio di via De Frentani. Facevo anche più ore di quelle che mi spettavano, ha commentato. Ho rinunciato cinque anni fa all'indennità che mi spettava come sindaco di 2.000 euro. Figuriamoci se ora mi rovinavo per 600 euro al mese, ha aggiunto, convinto di poter dimostrare le sue ragioni.